3, 2, 1, sto registrando, lol, lagga Ok, vabbè, non ho fatto niente Tanto lo togli l'audio, vero? No, ti sentono Ah, non lo togono l'audio, quindi? No Allora, ciao Comunque, che vorresti dire? Guardate che griffata che abbiamo fatto, lol Una griffata incredibilmente griffata C'è stata anche una bella TNT TNT di fortuna, però L'abbiamo data così per fortuna assurda L'ho trovata L'hai trovata No, l'ho trovata Ok, l'hai trovata, appunto Comunque Era un server completamente privo di protezioni, eccetera E gli attimi sono scemi perché io ho chiesto Potete dire di asportarmi da Angel? Io l'ho scritto ok Io ho detto di asportare l'ugure E sono morto anche nella lava E questi sono i primi di una lunga serie Cioè, guardate, qua non solo quanto legno Poi c'era un'altra cosa E la montagna? C'era una torre C'era una torre Posso prendere quello che vogliamo Basta starci un po' e le giro si trovano Veramente questo è stato il terzo server che abbiamo provato Cos'è scritto Palino Gio Palino Giovese Oh, finiamo, 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 io devo Io mi prima ovo a scrivere, allora, aspetta Ti devo scrivere Ti devo scrivere Ettal te Tans for that Trb S S Aspetta S Lucca Eas Allora quando dici tu io lo mando Ma io l'ho scritto Ah No, thanks for ad effetto forse i miei figli in baria No Ennio pallino corgi Wors Io Ma sto a dire Vediamo che fanno Vediamo che fanno A me sembrano morti questi Sì sono morti Eppure prima c'erano Vabbè dai lasciamo la firma ufficiale del team e squagliamocela Ovvero Server Off Shit Non possiamo non metterlo E per finire La svastica l'ho fatta Lo li faccio No io la faccio una di diamante L'ho fatta malissimo Why 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 Hanno scritto why Ok 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 è scritto quello Ora ci banna Ma chi se ne frega C'è comunque ho detto tutto è lava ma insomma ho scritto bene Chi se ne frega No io voglio i copri Lo vero Ma no cosa mi sembra stupidi Gli altri che se ne frega il server Sorri Sono malati Vabbè vai Io chiudo sto video Ok Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti